Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi sono ad Astano e sono andando a fare la prima uscita sci alpinistica della stagione e arriverò su al Monte Rima, che sono 1600 metri, poco più di 1600 metri, con un totale di circa 1000 metri di dislivello giornata bella, splendida, un po' freddino perché ci sono meno 7, adesso sono le 9 e un quarto però è una giornata fantastica visto il sentiero impervio e la poca neve che è comunque caduta a quote basse, il primo pezzo da far a piedi faticaccia sono dovuto intercettare la strada che porta sotto il Monte Rima, adesso ho il Monte di Ski e si comincia a pellare verso il Lima, non mancano ancora 700 metri di dislivello, infatti circa 300 a piedi e via che figata di giornata, comincia a fare anche un po' caldo, continua la salita ora, adesso sono circa 10 metri, manca poco più di 600 metri, veramente bello siamo arrivati alla Forcola a 1120 metri e ci sono un bel 40 centimetri di neve fresca davvero una gran giornata, fa abbastanza caldo, adesso sono le maniche corte, ci saranno un paio di gradi 2-3 gradi e adesso comincia l'ultimo strappo siamo quasi giunti alla meta, mancano gli ultimi 90 metri, ci siamo, siamo arrivati al Monte Rima che faticaccia e adesso ci mangiamo qualcosa, sto facendo un risottino e dopo si comincia di nuovo la discesa, mamma, il panorama è veramente fantastico beh, il risotto è pronto, per cui buon appetito e ci rivediamo dopo per la discesa ciao 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 ciao